Ciao ragazzi, sono Luca Alvec, oggi vi farò vedere un mio nuovo video, un mio nuovo trucco di magia A dire il vero non è mio, in realtà me l'ha insegnato mia nonna un casino di anni fa Un po' per insegnarmi qualcosa, un po' anche per rompermi le palle Visto che l'ho capito dopo un casino di anni Comunque, il trucco è semplice Mi farò pescare prima una carta Pescate Non la sto guardando, la mettiamo in alto Ora, mescolo E questa? No? Mmm, allora è difficile Continuo a mescolare Smazzo Mescolo Smazzo Mescolo E ora le giriamo E vi dirò qual è No, 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 no Come è fatto? C'è un barone, tu l'avevi già preparata prima la carta? Sì, l'abbiamo visto. No. Il trucco è semplicissimo. Io ora ve lo spiego. Quando gli fate pescare una carta, la deve mettere in alto. Quindi, ad esempio, peschiamo una carta a caso, prendiamo il 4, lo mettiamo in alto. Quando lo mettete dietro, fate finta di mescolare. Prendete questa carta, con le mani dietro la schiena, la girate e fate. È questa? Poi andate dietro e la ricambiate. Quando voi fate questa, vedete la carta che avete qua dietro. Il trucco è semplice. Lo fai una volta, lo fai due volte. Alla terza gli dici, dai, mescola te. Lui mescola, mescola. Da solo gli dici, aspetta, è il 4 di cuori? Quindi, spero che anche questo trucco di magia vi sia piaciuto. È molto semplice, ci ho messo anche tanto per dire. E niente, iscrivetevi per altri trucchi. Bella ragazzi, alla prossima!